Ria scelta di nuovo, andando ancora da Camporese per il senso a sinistra su Lopex, viova ancora in un giacampo, torna ancora da Camporese, scuso all'indietro il Bari, non lascia anche la manovra alla formazione di casa che non va oltre la via in un giacampo, ancora la fiora, quando si è stessa tornando in titolo da proprio, la figura successiva da parte dei problemi del Bari, che palla la posta con Lopex, il lancio nuovo cartolato, la sonda sulla finita ferroviola che sarà finito in proposizione per il proverso, tanto di un uomo per il bambino. Siete sempre qua in campo di Bari, Riccardo e Maneo, c'è stata una scena simpatica di uno che si è andata in campo con Lorenzullo che lo ha stranato ad alzarsi dalla pancina, da fare presa, a guadagnare la mia mediana per operare il campo. Noi ricordiamo il borlo, ma questo è il momento dell'armario con il Bari, di questo momento. E va a sostituire, buon lavoro, ma tanto il cambio per il bene del bambino. Sì, questo è un cambio per il bene del bambino.